Conto la rovescia per la NPC Rieti in vista della prima di campionato. Domenica 5 ottobre alle 18 la squadra di coach Nunzi affronterà in casa il Senigallia, già avversario nella precedente stagione cessistica. Tutto pronto per affrontare con lo spirito giusto questa nuova avventura, in un pala sojourner che si spera gremito di difosi, pronti a sostenere le sorti di patron Giuseppe Cattani, accantonando veleni e polemiche sulla denominazione della prima squadra di basket della città. Intanto sono ripresi ufficialmente gli allenamenti dopo il match giocato sabato scorso contro la Stella Azzurra Viterbo nel Memorial Gasperini, che ha visto gli amaranto celesti travolgere letteralmente per 84-38 i viterbesi. Una partita, ricordiamo, vinta con molti giocatori del settore giovanile le nuove promesse. Allenamenti dunque funzionali non solo alla ripresa del prossimo campionato con l'esordio casalingo, ma anche della quadrangolare del weekend contro l'Eurobasket Roma, Amatori Pescara e Piombino. Le prime due inserite nello stesso girone dell'NPC, Girone C. Si prospetta nuovamente una grande occasione sia per testare la preparazione dei giocatori, sia il livello delle due squadre avversarie che coach Nunzi ritroverà nel corso del campionato. A meno di sorprese dell'ultimo momento, si mantengono inalterate infatti le speranze di Cattani di accedere alla serie A2 Silver. Si attendono le decisioni del Consiglio federale sull'eventuale esclusione di Forlina 2 Gold e la missione di Matera che porterebbe la NPC al tanto desiderato salto di categoria.